Pasta con melanzane stracciatella, un primo piatto veloce e gustoso e super cremoso. Vi basterà tagliare a metà un grappolo di pomodorini, una melanzana tagliata a dadini, fate cuocere in padella con un filo d'olio, aglio e peperoncino le melanzane. Poi aggiungete dopo 10 minuti i pomodorini, salate, fate cuocere ancora per 5, massimo 10 minuti. Nel frattempo potete accotturare la pasta in acqua bollente salata, scolatela al bende e trasferitela all'interno della padella con i pomodorini nelle melanzane, aggiungete anche la stracciatella oppure il formaggio cremoso che preferite, mantecate per qualche istante, pepe e basilico, provatele buonissima! Gnocchi con melanzane scamorza, buonissimi e cremosi. Tagliate a dadini una melanzana, in una padella scaldate abbondante olio extravergine d'oliva e fate soffriggere i dadini di melanzane. Quando saranno ben dorati, scolateli su carta assorbente. Nel frattempo in un'altra padella fate cuocere la polpa finissima di pomodoro con olio, aglio, un goccino d'acqua e il sale per una quindicina di minuti, dopodiché aggiungete anche i cubetti di melanzane e lasciate cuocere ancora per 5 minuti. Nel frattempo portate a cottura la pasta che più preferite, ho usato gli gnocchi senza glutine e non appena è cotta trasferitela all'interno della padella insieme a della scamorza tagliata a dadini. Mandecate ancora per qualche istante, guardate come filano, non vi resta che provarli. Ciao! Pasta con sugo di melanzane e ricotta salata, buonissima! Fai soffriggere in padella con 3 cucchiai di olio e aglio una melanzana tagliata a dadini. Dopo 5 minuti aggiungi la polpa finissima di pomodoro, sale, un bicchiere di acqua, copri e lascia cuocere per 20-30 minuti. Dopodiché cuoci in acqua bollente e salata la pasta del formato che più preferisci, io ho usato pasta senza glutine, scola l'aldende e trasferiscila all'interno della padella con il sugo di melanzane. Aggiungi la ricotta salata grattugiata, mi raccomando tanta, foglioline di basilico, mantica per qualche istante a fiamma vivace e servi la pasta con sugo di melanzane con altra ricotta salata. Provatele, è buonissima! Ciao! Se in frigo avete una melanzana dovete assolutamente provare questi cordon bleu di melanzane cotti in frigidrice ad aria, buonissimi! Mi basterà tagliare a fette non troppo sottili una melanzana. Farcire a piacere, io ho utilizzato prosciutto cotto e scamorza. Chiudere con un'altra fettina di melanzana, passare le melanzane prima nell'uovo sbattuto, ben rambilati e poi nel pangrattato. Io ho utilizzato pangrattato senza glutine. Cercate di ricoprire completamente, anche intorno ai bordi. Adagiatele all'interno della frigidrice ad aria. Io ho utilizzato la mia nuova frigidrice ad aria della Cosori, che è fantastica. Una spruzzatina d'olio e fatte cuocere a 200 gradi per 15 minuti rigirandoli a metà cottura. Provateli, sono davvero gustosi e semplicissimi da preparare. Parmigiana di melanzane light in padella. Prepariamoli insieme. Tagliate a fette due melanzane e grigliatele. Nel frattempo preparate un sughetto veloce di pomodoro e dopo 20 minuti di cottura preparate la vostra parmigiana in padella. Sughetto, melanzane grigliate, sale, mozzarella, ancora altro sughetto, formaggio grattugiato e continuate così fino ad esaurire le melanzane. Cottura 20 minuti con coperchio a fuoco basso. Provatela e buonissima! Ciao! Se in frigo avete un rotolo di pasta sfoglia e due melanzane dovete assolutamente provare questa ricetta. Tagliate a fette le melanzane e grigliatele. Mettete da parte, srotolate la pasta sfoglia. Ho usato pasta sfoglia senza glutine lasciando sotto la carta da forno. Spalmate sopra un po' di passata di pomodoro. Aggiungete le fette di melanzane grigliate, salate. Aggiungete sopra prosciutto corto a fette e scamorza. Arrotolate ben stretto il rotolo di pasta sfoglia, sigilate bene i bordi e riponetelo in freezer per una ventina di minuti. Dopodiché riprendete il vostro rotolo di pasta sfoglia e divinetelo in 12 rondelle. Adagiate le girelle su una teglia foderata con carta da forno, una spolverata di formaggio grattugiato e in forno a 200 gradi per 20 minuti. Provatele, sono buonissime!